Eccomi insieme a Ignacio Lunetta e allora tu mi hai detto giustamente, mi hai fatto notare una cosa sul podio, non ce n'è solo uno, che è il Schumacher, ce ne sono due anche alle situazioni, ragazzi, ma questa vittoria di Schumacher quanto te la sei sudata anche tu? Beh, tantissimo tempo, tantissimo lavoro, non solo io, tutti i ragazzi che lavoriamo tantissimo, è immaginabile la... Ma falla trasparire un po' di questa emozione che hai Ignacio Tutto dentro, sono molto felice veramente, dentro sono molto 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 felice Cosa vuol dire lavorare con Schumacher? Vuol dire lavorare tranquillo, essere sicuro, più sicuro di quello che fai, perché non riesci a mettere in pratica tutto il lavoro che fai, quindi ti senti tu più tranquillo, ti metti un po' di tranquillità all'ambiente e si lavora bene in questa direzione qui Non c'è, cioè fa un po' da filtro la pressione esterna, quindi è lui che ci tiene tranquilli e ci permette di lavorare, di trovare molto più tranquilli che è una cosa importantissima in questi frangenti che sono veramente pieni pieni di tensione Bene, grazie Ignacio, complimenti Grazie a tutti